Grazie di avermi chiesto di presentare questo libro, è stato molto interessante, bello a tratti, anche commovente leggerlo, perché appunto per una serie di motivi che adesso vi proverò a dirvi in dieci minuti. E questo libro appunto, come è già stato anticipato, è una raccolta di ritratti di militanti del Partito Comunista. Ora, quando si dice appunto questa cosa, militanti del Partito Comunista, in qualche modo si fa riferimento a un'iconografia già presente, insomma, quantomeno sicuramente non nei più giovani, ma insomma da una certa età in poi, l'immagine del militante del Partito Comunista è un'immagine abbastanza ben definita, che da un certo punto in poi è andata, se vogliamo trovare davvero un'icona, in qualche modo anche se è un po' consolatoria, potremmo ritrovarla appunto nel bobo, insomma, di Staino. Ora, per me, se io dovessi cercare la mia icona personale, in qualche modo, o comunque l'immagine che meglio sintetizza quello che per me è il militante del Partito Comunista e che ho ritrovato in quasi tutti questi saggi, è una frase di un vecchio monologo di Roberto Benigni, se non sbaglio, il Cioni, insomma, probabilmente, nel quale appunto Benigni, definendo la figura del militante comunista toscano, diceva chi è il comunista toscano? È quello che nella Casa del Popolo di Rivisondoli di sotto organizza il dibattito Crisi del Petrolio, Soluzioni. Ora, quando appunto da ragazzina questo monologo, lo ripetevamo a memoria, insomma, nella FIGC di Grosseto, un po' ridendoci, però effettivamente negli anni ripensandoci, anche appunto adesso confrontandomi con queste biografie, e poi, insomma, diciamolo anche studiando un po', ovviamente, la questione del nesso nazionale e internazionale è proprio una cosa che attraversa la storia del Partito Comunista, non in termini soltanto politici e storiografici, ma proprio in termini di vita personale, insomma, no? Qui appunto la questione del personale politico è potentissima, si trova in tutte le biografie, e appunto l'idea che nella Casa del Popolo di Rivisondoli di sotto si potesse organizzare un dibattito sulla crisi del petrolio e addirittura proporre le soluzioni, è qualcosa che ci racconta bene di come effettivamente nella storia di questa militanza ci fosse questa pretesa, che però non era velleitaria, ma appunto era costitutiva, ontologica, insomma faceva parte della cultura politica, di poter ragionare sul presente a livello appunto di politica nazionale ed internazionale. Questo lo si trova anche quando si guardano le carte di polizia, che appunto controllano fin dagli anni 50 i militanti, le varie associazioni che nascono insomma collaterali al Partito Comunista, penso appunto all'Associazione Italia URSS, ai pionieri, insomma, no? Tutte le varie iniziative che vengono organizzate nei più microscopici comuni italiani su argomenti appunto di politica internazionale. Questa dimensione appunto internazionale è proprio un carattere originale fondamentale che riemerge in alcune di queste biografie. Io ho trovato, è già stata citata insomma, sia da Ermanno che da Graziella, la biografia di Valerio Baldan, una delle... Forse, diciamo, uso questo aggettivo interessante non perché le altre lo fossero di meno, ma perché per me forse era quella che raccontava cose meno note proprio appunto l'operazione di militanza che veniva fatta all'estero, nel suo caso in Germania, poi in Belgio, però con un passaggio a un certo punto doveva andare addirittura in Inghilterra e racconta proprio il rapporto dei vari militanti che il PC aveva con i militanti di questi paesi e di come, per esempio, una cosa che io non sapevo, ci fosse l'obbligo per i militanti del PC di iscriversi al partito comunista del paese in cui erano residenti e ovviamente con i comunisti francesi questa cosa ha provocato non pochi problemi. Ma appunto, al di là della biografia di Baldan, che è quella che oggettivamente proprio per la sua storia, insomma, ha una vocazione internazionale, questa riflessione sul rapporto tra l'Italia, il PC e il mondo è ovviamente una cosa che è una caratteristica che attraversa le storie di tutti quanti, anche appunto di chi diventa militante in un piccolo paese del Monte Amiata oppure appunto della Calabria. Ci sono delle parole chiave che attraversano queste biografie che sono parole chiave che rimandano ad una storia che è una storia nella quale i comunisti, insomma, erano e sono stati in prima linea appunto. C'è il reparto confino per quanto riguarda la Fiat, ci sono gli attendamenti per quanto riguarda le marce della fame appunto che fanno i contadini toscani, le lotte per la casa in una dimensione politica che viene fatta dentro le città. C'è Napoli, c'è Roma, c'è la bellissima biografia di Loredana Mozzilli che racconta appunto di come partendo dall'EUR hanno iniziato a lavorare nei quartieri a margine della legge appunto sulla 167 del 62 e come intorno alla lotta per la casa è cresciuto il movimento comunista a Roma. C'è una figura che è quella di Berlinguerra che come un gigante, diciamo, emerge più che nelle storie politiche del Partito Comunista, nelle biografie dei singoli militanti. Togliatti è un punto di riferimento organizzativo, eppure Berlinguerra è come se fosse in qualche modo sempre presente nelle vite di tutti, forse per una questione generazionale, su questo forse si potrebbe essere più precisi, insomma, e anche più cauti nel sottolinearne appunto l'importanza. Certo è che appunto, visto che la prima biografia è quella di Antonio Giallara che parte proprio dal racconto dell'Ottanta in Fiat, questa figura di Berlinguerra accanto agli operai che si troveranno di dia poco a vivere in una delle peggiori sconfitte insomma della storia del movimento operaio, ovviamente insomma è riferita a quegli anni, ecco, è un compagno di strada che poi si troverà in qualche modo in tutte quante le biografie. La questione del personale è una questione, come diceva prima Graziella, queste biografie sono biografie di compagni e compagni che stanno sempre di corsa. Questo effettivamente è una cosa che colpisce ed è proprio così a un certo punto, se non sbaglio, è Carlo Ricchini che parla delle difficoltà per un giornalista dell'Unità che però appunto non era un giornalista qualsiasi perché gli stipendi dei giornalisti dell'Unità erano equiparati a quelli appunto, insomma erano stipendi molto bassi e appunto la moglie a un certo punto dice mi piacerebbe avere uno stipendio che ci consente di arrivare alla fine del mese, quindi non solo appunto non ci sei mai, sei fuori insomma tutta la notte, ma appunto neanche ci fai campare bene, questa è una cosa che per esempio avendo lavorato insomma sulla biografia di Gianni Rodari ho trovato anche in lui questo lavoro nel giornale ed anche per questo insomma fa tanto più male appunto il destino di questa testata appunto che davvero è stato portato avanti e costruito insomma da persone che hanno fatto ben più che i giornalisti là dentro. E la questione del personale e del politico ovviamente è una questione che attraversa le poche, io avrei voluto leggerne di più, ma insomma comunque non per una questione di numero, ma perché effettivamente la grande varietà che c'è nelle biografie delle donne ci racconta proprio di tutto un altro mondo appunto di militanza, no? Già accennato a quella di Loredana Mozzilli, insomma che viene da un ambiente più, se vogliamo comunque è borghese all'euro appunto e organizza un partito cittadino, Gabriele Anisticolla ha citato Ermanno prima, ma invece appunto come si può non commuoversi al racconto della biografia di Luciana Romoli che a un certo punto per la sua militanza, che veramente è una militanza che nasce fin da bambina, piccolissima staffetta negli anni della guerra, a un certo punto dice, e ovunque andava faceva la militante, faceva la comunista, non è che la faceva, era comunista, e lei a un certo punto dice mi licenziarono da tutte le fabbriche tessili, poi andare a fare la raccoglitrice di olive perché a casa ce la passavamo male e mi licenziarono pure da lì, no? Allora appunto quando penso per esempio a quello che scrive Raniero Panzieri quando racconta di quando viene mandato dal Partito Socialista in Sicilia a ricostituire diciamo questo partito di notabili che non riusciva a stare a capo delle battaglie dei contadini, delle occupazioni delle terre appunto perché i comunisti erano egemoni e leggo la storia appunto di Luciana, Lucianetta Romoli e penso ma per forza erano egemoni perché appunto c'erano nati lì, anche qui mi viene in mente insomma sempre Benigni quando scherzando diceva che gli indiani di America c'erano nati in America quindi l'avevano scoperta loro, ecco i comunisti l'avevano scoperta sì la lotta di classe appunto in questa circostanza perché la vivevano in prima persona, Luciana Romoli mi è molto cara anche perché appunto poi verrà mandata dal Partito a lavorare con Gianni Rodari e da lei Gianni Rodari dedicherà una filastrocca che adesso vado a leggere perché è bellissima e si riferisce appunto ad un episodio un episodio appunto reale della vita di Luciana quando lei va appunto a fare una scritta sul muro insomma al muro torto pace, lavoro, pane e libertà e però viene arrestata perché si attarda per scrivere l'accento sulla parola libertà allora la mettono in carcere lei dice alla mamma avvisa Rodari che non andrò al lavoro Rodari chiaramente mangia subito la foglia capisce che cosa è successo e scrive per lei questa filastrocca o fattorino in bicicletta dove corri con tanta fretta corro a portare una lettera espresso arrivata proprio adesso o fattorino corri dritto nell'espresso cosa c'è scritto? c'è scritto mamma non stare in pena se non rientro per cena in prigione mi hanno messo perché sui muri ho scritto col gesso con un pezzetto di gesso in mano quel che scrivevo era in buon italiano ho scritto sui muri della città vogliamo pace e libertà ma di una cosa mi rammento che sulla A non ho messo l'accento perciò ti prego per favore va tu a correggere quell'errore e un'altra volta mammina mia studierò meglio l'ortografia e ci sarebbero appunto tante altre cose insomma da ricordare veramente ne ricorderò pochissime per esempio la riflessione che fa Corrado Angione che migra a Milano ed è l'unico che cerca di entrare un po' nel merito forse anche perché l'osservatorio di Milano da questo punto di vista è come dire insomma da quell'osservatorio inevitabile che lo faccia sulla sull'avvento del socialismo craxiano e di tangentopoli proprio nella vita quotidiana della città e quindi anche nel rapporto con i socialisti ed è Angione che ricorda appunto proprio la difficoltà di questo rapporto che invece viene per esempio ricostruita in tutt'altro modo perché proprio un altro dei temi che attraversano questo libro anche se non esplicitamente è come la militanza e la presenza del Partito Comunista si declini a livello locale in modo completamente diverso appunto nell'esperienza di Nero Cocchi che davvero fa riflettere proprio sul modello sul modello emiliano di cui già appunto Togliatti parlava nell'immediato dopo guerra e se non sbaglio insomma è molto divertente a un certo punto non mi ricordo quale segretario che va da lui e gli dice loro in quel momento hanno il 75% il piccolo 75% e gli dice ma si potrebbe fare di meglio e lui fa sì però insomma al PSU poi bisogna lasciargli qualcosa e quindi insomma è proprio un altro appunto un altro modello di comunista e c'è la storia appunto delle varie come dire eresie forse anche in questo senso una delle pagine più divertenti io uso questo aggettivo ovviamente mi perdonerete se lo uso perché chiaramente adesso sembra una cosa pittoresca anche se in quel momento ovviamente suscita discussioni e dibattiti e tragedie è come Pietro Spataro racconta di quando Jacovello era appunto innamorato del maoismo e appunto e di come poi scrive quelle paginate insomma che vengono anche censurate ma che poi finiscono su quanto è bello appunto mandare le persone a rieducarsi insomma nei campi di lavoro del maoismo a pulire i cessi a pulire i cessi sì ma non volevo insomma usare l'espressione pulire i cessi ma sì effettivamente pulire i cessi e chiudo ricordando Pietro Greco che ho trovato fra gli autori di questo libro non lo sapevo c'era inaspettato il suo saggio bellissimo appunto sul rapporto fra scienza e soprattutto fisici insomma partito comunista è particolarmente bello ricordo Pietro che è morto da poco tempo inaspettatamente e mi fa piacere averlo rincontrato in questa storia perché so quanto ci tenesse grazie mille grazie mille